Salvevete e bentornati in questo nuovo video, come potete vedere queste barre che si stanno alzando, si stanno abbassando è un effetto, un plugin che si installa su OBS e come potete vedere io con questo plugin posso spostarlo, ridimensionarlo, posso farci quello che voglio e poi possiamo anche fare un'altra cosa, adesso vi faccio vedere passiamo direttamente allo schermo su OBS Studio così vi spiego anche dove scaricarlo e soprattutto anche come applicarlo ad OBS innanzitutto sotto al video vi ho lasciato un link su come scaricare questo programmino eccolo qua, attraverso un archivio RAR voi lo dovete estrarre il file e all'interno troverete questo setup cliccate sopra, sì, e fate next, next e poi installate, ok? però dovete installarlo nella cartella di OBS Studio, ok? quindi sì, chiudi tutto adesso vi faccio vedere una cosa allora, sistemiamolo bene ok, vado sullo spettralizzatore, qua possiamo mettere barra e cerchio ehi, 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 come fa? non copyright sound? eh, eh? ok il microfono va benissimo qui potete scegliere l'audio per esempio io ho messo l'audio del desktop e niente, fa la stessa cosa ho messo il microfono sempre la stessa cosa le barre qua si alzano e si abbassano che abbiamo un circolo questo, ah, ho capito cos'è tipo come il sisma del terremoto che è il bar, meglio le barre e qui possiamo cambiare il colore se ne ho il colore posso mettere questo ah, così è più bello, eh poi qua sotto non ho capito ah, la gravità ammazza ah, hai capito lento, lento no, va bene così, ok? va bene così veramente, ok quindi ragazzi, se questo video è stato utilissimo io vi consiglio di iscrivervi al canale per altri tutorial lasciare like e mi raccomando, fatemelo sapere se avete bisogno di qualcos'altro e noi ragazzi comunque cercavo questo effetto da mesi alla fine sono riuscito a trovarlo ho seguito alcune guide e niente quindi ragazzi che vi devo dire grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao